Vedete, al tempo stesso questo governo, violando la Costituzione di cui il nostro statuto fa parte, perché non ha invitato il Presidente della Regione nell'assumere la determinazione, ci conferirebbe, come dire, ci deferirebbe alla Corte Costituzionale, perché abbiamo esercitato una funzione che ci è propria. Non so se ci darebbe mai un euro per fare un aeroporto, però la centrale eventualmente è disposta a realizzarla. E noi questo non lo consentiremo, a costo di piazzarci davanti allo stretto cono senza ponte o in tutti i porti della Sicilia.